cosa ho scordato gli airpod queste qui sono della preistoria ma meglio di niente wow hai per caso rapinato un museo quando è troppo è troppo oh la mia penna magica qualche schizzo e avrò un paio di airpod nuovissimi visto? così va molto meglio hanno un suono favoloso tutto grazie alla penna 3D adesso ho le onde lucide ok il rosso andrà benissimo oh cavolo che guaio sono un'imbranata accidenti coraggio proviamo a pulire pulisciti ci vogliono maniere forti ancora lì va bene allora adesso si che ragioniamo anche peggio di prima l'ho distrutta completamente ma forse con un po' di creatività ah sì diamoci da fare ho una nuova custodia con la mia nuova penna 3D somiglia già a una custodia vero? attenzione ai lati e potete usare il colore che preferite oh questo è in tinta col mio vestito ehi che si dice? sto battendo tutti i record ci vuole una pausa fissando lo schermo mi è venuto sonno oh sì interessante che cos'è stato? non era il gatto sfero oh no i suoi occhiali mi farà a pezzi no accidenti a me adesso che ci penso però la mia penna sistemerà tutto quanto prima facciamo il contorno delle lenti poi lavoriamo lungo i bordi così poi li uniamo e adesso le aste e voilà fatto sembrano carini vero? piano piano oh c'ero quasi ehi le vanno benissimo ho dormito con gli occhiali oddio che strano vabbè l'ho fatta franca guarda quanti bei gioiellini questo fa proprio al caso mio è perché accontentarsi scusa le dita servono a questo giusto? come le stanno bene ed io invece? beh me lo sono fatto da sola questo è un po' più audace forse anche troppo questa forse? ma che cosa mi salta in mente? aspetta ci sono! ma certo! vedete questo cuore? applichiamo la penna sul contorno così lo voglio rosso coloriamolo adesso facciamo la coroncina degna di una regina sì oh è questo carinissimo fiorellino potete usare tutti i colori che preferite coloriamo bene i petali così perfetto questo sapete cos'è? è la parte che andrà intorno al dito e adesso torniamo al cuoricino mettiamo qui un po' di colla e incolliamolo all'anello visto? gioiellini fai da te che belli sento a crederci quattro anelli fatti a mano ah? e quelli dove li hai presi? li voglio! sono davvero unici vero? posso provare questo qui? bello! amiche di anelli niente è meglio di una lotta con i cuscini i capelli non vedo più niente aspetta pausa time out va bene? ce l'avrò un elastico per capelli più o meno no, giù le mani l'ho vista prima io ma io ne ho più bisogno dammela guarda che hai combinato ma forse io ho la soluzione è ora del piano B aiutaci tu penna magica sarà anche divertente prima tracciamo delle linee così le uniamo qui sopra e le coloriamo tutte tra un attimo sarà più chiaro facciamo anche dei piccoli cuoricini così carini vero? un altro mancano i brillantini adesso poi uniamo le due parti tra di loro e la applichiamo sui capelli addio capelli davanti agli occhi wow wow possiamo ricominciare a scuola capita di avere gli stessi gusti e questo può causare dei problemi ci sentiamo? Hemingway è interessante sì ma cosa? questo che ci fa nel mio zaino? non è roba mia aspetta ma quello è il mio zaino forse mi è venuta un'idea scrivete il vostro nome con la penna 3D io ho scelto questo stile potete scegliere anche altri colori non lasciate nessuno spazio bianco come qui intorno a lei e adesso coloriamolo applicate la colla in diverse direzioni così le lettere si vedranno meglio per finire il contorno e una catenina nessuno si approfrierà più del mio zaino non è il mio nome Madison? scusa ci è mancato poco l'etichetta è utilissima wow davvero finalmente cupido mi ha accontentata ho i capelli apposte ciao mi vanno in bocca e nei capelli ma che cosa è stato? un tornado aspetta so io cosa fare ecco ti amica mia usiamo questo pennarello per modellare la colla continuiamo così una volta asciutta srotoliamola tutta deve somigliare a una piccola molla aggiungiamo un po' di colla qui e incolliamo le due estremità così tada adesso non sarò più spettinata dove eravamo rimasti ciao oh ciao qual è il vostro lavoretto preferito? ditecelo nei commenti condividete il video con gli amici e iscrivetevi al canale per altri video fantastici come questo qui non riesco a smettere di guardare questa collana è proprio wow sono proprio fortunata è troppo bella wow che male oh la mia collana si è rotta guarda che disastro aspetta magari posso sistemarla permesso c'è qualcuno qui? davvero eccezionale questa saldatura ehi yuhuu da questa parte che vuoi tu? ciao Annie entra pure sì sei sicura? come va? ho rotto la mia collana sì è decisamente rotta ma posso aggiustarla vediamo che abbiamo qui ah è irrecuperabile si può soltanto buttarla ma mi piaceva no invece te ne faccio una più bella guarda qui ti senti bene? non sono sicura che sia il mio stile non ho finito sinceramente non mi fa impazzire wow sei davvero esigente in fatto di gioielli sono accorto di idee ci deve essere qualcosa che possiamo fare aspetta ci sono mi servirà questo pop it riempio la fossetta con la mia penna 3d e continuo così per tutta la colonna poi ci metto una catenina e copro con altra plastica mi assicuro di non lasciare vuoti poi aspetto che solidifichi bene ci siamo dai provala come mi sta? devo vedermi wow sembrano dei fiori non ci posso credere Ava è meravigliosa grazie figurati per così poco cosa? sì eh eh wow hey oops questo video è stato utile facci sapere nei commenti e ricorda di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale per tanto altro ancora ok fatto puoi andartene ehi guarda figo l'ho schiacciata divertiti con la tua stupida scheggia qualcuno ha qualche spiccio da darmi? oh ma poverino sai che c'è? dovrei aiutarlo ecco qui sembra proprio che tu ne abbia bisogno oh la mia bibita la vorrà sicuramente tieni prendi anche questa wow grazie chissà se ha freddo wow sei troppo premurosa ma no non è niente sul serio volevo solo aiutarti che bella canzone oh quel tipo sta messo male so io che fare una chitarra sistemerà tutto sono così contenta di aver creato questa canzone ieri sì funziona la gente mi sta dando un sacco di soldi wow fatto ok raccimoliamo tutto ho guadagnato un sacco ehi tu comprati un hamburger sul serio sono tantissimi soldi grazie sei un angelo ma di che non è niente ma quella storia è troppo forte ehi ho una sorpresa per te wow wow lecca lecca lo adoro ok andiamocene oh no stagli attenta quel cane sembra pericoloso pericoloso no sul serio fa attenzione potrebbe morderti non avvicinarti troppo adesso siamo al sicuro ok pronta ad andare oh qualcuno mi sta chiamando ciao che piacere sentirti sul serio è straordinario oh un cane com'è carino cucciolone guarda come sei bello è troppo adorabile ma chi è bravo sì tu lo sei ciao ciao che bel modo di cominciare la giornata forza piccolo andiamo ok aggiungerò questo appunto credo di essere pronta oh cavolo la penna non funziona più almeno ne ho una di ricambio ok questa dovrebbe andar bene no non va bene ne provo un'altra vediamo in mano sta bene e anche in bocca sì questa va benissimo molto meglio posso tornare agli studi ma che cavolo la penna non funziona più che rottura guarda quante ne ha lei magari me ne presta una no non posso chiederglielo ci deve essere un modo wow una penna nella spazzatura bene devo essere subdola sono pronta e vado wow ma che succede eccola il mio premio sì presa adesso devo tornare al banco grande adesso posso tornare agli studi oh no dai non funziona ok devo chiedere a lei oddio ciao come ho dormito bene buongiorno micina mia sei la gattina migliore di sempre facciamoci una foto sorridi come sei carina spazzolerò anche te è l'ora della colazione tieni prova anche tu ti piace vero ehi diablo grazie anche per la compagnia guarda che cosa ho per te che bravo che sei te lo meriti e adesso spazzoliamoci devo trovare il collare giusto per essere sempre abbinato sì questo starà bene anche a te perfetto tu che ne pensi questo ti starà benissimo ecco qui sei davvero affascinante quanto mi piace la scuola oh no tutte le mie cose stanno cadendo e adesso che cosa faccio lo so farò un angelo con i peluche che bello ma adesso come faccio a rimettere tutto nell'armadietto ho troppa roba devo eliminare qualcosa sarà davvero difficile uno per te uno per me e anche per te ma perché me l'ha dato vediamo sembra bello pieno spingerò la roba dentro ci starà sì no dovete rimanere lì cavolo non funziona forza devo solo spingere più forte perché non mi danno retta ok credo abbia funzionato non muovetevi finalmente non è possibile ma che bel film hai ragione piace anche a me e i popcorn sono buonissimi oh scusami vai avanti tu no no ti nutrirò io ti meriti un po' di premura da parte mia che buoni qui dentro fa caldissimo tieni bevi questa c'è anche del ghiaccio grazie tesoro molto meglio come sono scomode queste poltroni lo so tieni prendi questo ecco qui dovrebbe aiutarti con la schiena molto meglio sei troppo amorevole tesoro sei stupenda no tu sei stupendo voglio alzare un po' i piedi non vedo l'ora di conoscere il piccoletto ok sei pronta ti distruggo alla prima mossa sei troppo bravo a questo gioco tieni ti batterò tesoro potresti prendere da bere per me il bambino certo torno subito ecco ti ho preso la tua preferita che buono mi fa impazzire posso aiutarti se vuoi impazzire sì questa è la mia canzone preferita i pop it sono divertenti ma lo sai che ci puoi fare anche dei gioielli usiamo una penna 3d per riempire gli spazi poi mettiamo un perno nella plastica e usiamo la penna 3d per coprirlo aspettiamo che la plastica si indurisca rimuoviamolo dal pop it e ammiriamo il tuo nuovo orecchino o meglio ancora indossiamoli non male vero questa bottiglia è proprio quel che mi serve farò qualcosa di speciale con lei ma mi serve anche la mia penna 3d comincio disegnando intorno al collo della bottiglia devo creare una linea continua a questo punto proseguo verso il basso e aggiungo ancora un po' mantengo la spaziatura regolare tra le linee così spero di non esaurire la plastica una volta fatto disegno linee orizzontali devono incontrarsi con quelle verticali ti piace la casetta nuova penso di sì oh sì shalalalala oh ciao wendy oh scusa ciao quelli cosa sono sono i miei nuovi airpod sono favolosi non so come farei senza di loro posso vederli ah beh ok ma fai attenzione sono bellissimi forse me li procuro anch'io gina no va tutto bene li prendo io sapevo sarebbe successo ta-dan ehi ma cosa c'è erano rotti così anche prima vero mi spiace tanto non l'ho fatta apposta perché doveva succedere no non piangere ti prego aspetta so come aggiustarli presto questa custodia diventerà un capolavoro mi serve la colla applico una linea sottile lungo la custodia così adesso prendo le pinzette le uso per incollare questi brillantini sulla custodia non voglio sporcarmi le mani uso diversi colori alternandoli faccio con calma il lavoro deve essere perfetto non voglio che Wendy si arrabbia ancora di più fatto questo aggiungo un'altra fila cerco di fare tutto con precisione sarà così colorata continuo verso il basso e il fondo della custodia e poi faccio anche i lati devo coprire tutta la superficie questo sarà l'ultimo wow guarda che bella non vedo l'ora di mostrarla a Wendy guarda cosa ho per te la nuova custodia degli airpod spero ti piaccia ma dai l'hai fatta per me grazie Gino sai cosa ascoltiamoci un po' di musica dai divertiamoci cosa ascoltiamo? adoro questa canzone pronti? via! fatti da parte perdente bravo coniglietto cosa? la tua zampa sta cadendo vabbè non è un gran problema ho un sacco di altri giocattoli quale scelgo? mh questo va benissimo chissà che cosa hai dentro wow quanta imbottitura sembra una nuvoletta gina ti ho portato dei biscotti gina? che cosa hai combinato? quel povero dinosauro no! mi sto divertendo un sacco oh ciao mamma che ti è saltato in mente hai distrutto i tuoi giocattoli cosa ho fatto? sono un mostro no non piangere non prendertela prendi questi torno subito rimedierò io a tutto disegnerò diverse versioni di questo personaggio su un foglio usando una penna 3d per riempirlo seguo attentamente il contorno così è facile disegnare e anche molto divertente ok il primo è fatto adesso lo disegno di profilo sempre seguendo il contorno passo alla prossima fase devo assemblarlo ho creato una cornice unendo insieme i due pezzi adesso riempio tutto con la penna 3d creo dei fili sottili lungo la cornice come se stessi colorando un disegno mantengo le linee molto vicine tra loro continuo così mi sto divertendo molto decisamente meglio che lavorare con ago e filo non deve essere tutto perfetto non ancora ma ricopro quanto più possibile così dopo il lavoro sarà più semplice questo non sarà il giocattolo completo manca ancora qualcosa ecco il primo lato è terminato adesso lavoro sull'altro farò la stessa identica cosa disegno lunghe linee orizzontali vado più veloce ormai ho preso la mano ed ecco un'altra parte finita passo la penna qui e costruisco i vari strati poi aggiungo le linee verticali così coprirò gli spazi vuoti non devo dimenticare le orecchie ecco fatto comincio a prendere forma ora prendo la carta vetrata e la strofino sulla plastica wow visto che roba meglio di come avevo immaginato aggiungo i dettagli adesso coloro i suoi occhi di nero ho fatto delle piccole tacche per loro faccio l'altro e adesso cambiamo colore per le guance magari potessi truccarmi anch'io così questo tono di rosso mi starebbe così bene prendo un pennarello nero e coloro la punta delle orecchie basta colorarne solo una piccola parte c'è ancora una cosa che manca la coda l'attacco qui ed ecco fatto molto bello Gina ho qualcosa per te davvero? tieni wow mamma è fantastico l'adoro guarda resta tutto d'un pezzo anche se lo tiro posso anche morderlo divertiti tesoro vi lascio qui a giocare io vado a guardare la tv buonanotte Gina cos'è questo rumore? c'è qualcuno? mi sarò immaginata tutto provo a riaddormentarmi ma cos'è? non è divertente va via fatti vedere mamma cosa c'è che non va tesoro? mi so che c'è un mostro in camera ma no va tutto bene non c'è niente sì l'ho sentito era spaventoso tranquilla sei al sicuro ci sono accendo una di queste luci grazie mamma ai miei occhi non riesco a dormire non andare via mamma che c'è adesso? la luce è troppo forte scusa cara aspetta forse ho un'idea mi serve un po' di colla la colla non delude mai dammi solo un momento userò questo stampo a forma di cuore metto la colla negli stampi e riempio tutto fino all'orlo devo riempire l'intero stampo poi lascio la colla a far presa e adesso posso estrarre i cuoricini dagli stampi lo stampo di silicone rende tutto più facile che bella sensazione molto rilassante non mi serve più lo stampo riscaldo la pistola per colla e inserisco il beccuccio nel cuoricino così creo un buco faccio lo stesso con gli altri devo fare tutti i buchi della stessa misura ed ecco fatto inserisco delle luci a led dentro i cuoricini entrano alla perfezione non ci vorrà molto e il risultato sarà spettacolare avrei dovuto pensarci prima Gina sarà contentissima sono così carini e a posto adesso accendo le luci wow che bello sono le luci più belle di sempre grazie mamma sono così carine lo penso anch'io dormi bene a domani così va meglio fantastico non vedo l'ora che cominci la festa credo sia tutto pronto buon compleanno grazie mamma guarda questo è per te ah un testone gigante proprio quello che ho sempre voluto sapevo ti sarebbe piaciuto eh non so cosa dire sto scherzando questo è il tuo vero regalo ci avevo creduto wow grazie mamma l'adoro però fai attenzione ok certo puoi giurarci ora vai a scuola oh hai una piccola macchia qui il testone lo tango io wow incredibile che bel regalo mi ha fatto la mamma proprio fantastico volevo un nuovo telefonino da così tanto oh sono già a scuola ciao ciao Matthew guarda che cos'ho oh così non va bene per niente guarda la mamma ci resterà malissimo che cosa posso fare che disastro non posso starmene con le mani in mano Gina stai bene? non voglio che mi cade il telefonino si romperà tranquilla ho per te una custodia oh beh non è proprio il mio stile aspetta ho un'idea vedrai che stai facendo? faccio un bel makeover alla custodia metto il sigillante in un bicchiere così dovrebbe andare ora mi serve della tempera acrilica ne metto solo poche gocce do una bella mescolata voglio mescolare tutto non ci vorrà molto tempo e mi piace questo colore davvero niente male adesso la prossima parte ho una tasca da pasticcere la riempio con la mistura sigillante mi sento come se stessi decorando una torta il bicchiere non serve più uso un bastoncino per spingere questa mistura giù nel fondo della sacca e credo sia pronta non mi resta che fare un nodo così meglio assicurarmi che sia bello stretto non voglio fare pasticci taglio l'estremità della sacca in questo modo non troppo però così va bene e adesso versiamo ecco la custodia devo applicare la giusta pressione alla sacca e creo un motivo a spirale continuo così lungo tutta la custodia mantengo le spirali vicine l'una all'altra e con un leggero colpetto creo una piccola cima non male davvero forse dovrei fare un corso di pasticcere possiamo usare sigillanti di colori diversi ma a me piace questo color lavanda ha qualcosa di rilassante ed ecco l'ultima riga aggiungo un simpatico koala lo premo così voglio che faccia presa questo orsacchiotto qui nell'angolo uso le pinzette per sistemarlo non voglio rovinare tutto proprio adesso aggiungo qualche altro pupazzetto sono molto carini ora riempio gli spazi vuoti con delle stelle e mi sa che ho finito aspetto che il sigillante si asciughi e voilà che te ne pare mamma bello vero sei una vera artista devi aver preso da me ah grazie credo allora quando arriva la torta sono così annoiata questi giocattoli sono così vecchi che posso fare siamo bloccate qui ah già guarda ehi ho trovato felice adesso anche no sarà più difficile di quanto pensassi chissà se riesco a trovare qualcosa un palloncino ecco qui aspetta ma certo ehi Megan guarda che cosa ho per te non ci credo ok ora alzati va bene ora stai ferma ok ecco qui ti sta benissimo ma è fantastico anche io ne ho uno ora possiamo giocare ehi colpa mia che botta ops ci si vede in giro stupido inutile addio mi annoio ehi Annie stai cercando qualcosa con cui giocare? no lo so guarda metti alcuni palloncini in un sacchetto poi bisogna chiuderlo per bene togliamo tutta l'aria guarda sta venendo via sembra che i palloncini si stiano fondendo insieme wow posso? wow guardami posso volare sono così contenta che abbia funzionato questo canale mi fa morire da ridere guarda un po' è fantastico oh ma che cosa è successo? perché non hai ripulito? se non lo faccio io non lo farà nessuno Annie basta stare davanti lo schermo hai altre cose da fare ma perché? come vuoi questo disordine è merito tuo va bene allora comincio da qui non riesco a raccogliere niente no 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 fermati non si fa così ti faccio vedere vedi come è semplice? sì si fa così vero? e anche qui andate dentro bene preso quante cose ci sono quasi addio disordine ce l'ho fatta ok ecco qui accidenti sono troppo forte wow che tipo di bibita è quella? ma quella è Barbie? wow adoro questo episodio ah ah moledetti ci sono lego ovunque sei stata tu? ehi che c'è? tutto questo ecco che c'è oh pulirò più tardi più tardi? più tardi? che ne dici di adesso? adesso alzati va bene va bene adesso wow quello è stato davvero incredibile wow vuoi giocare? no vabbè dov'ero rimasta bello ok il divertimento è finito questi giocattoli devono andare tutti quanti via accidenti sei davvero forte momenti disperati richiedono misure disperate cosa? aspetta non il mio coniglietto e il tuo coniglietto? no per favore non farlo oh sì lo farò tanny no non farlo vieni qui coniglietto le tue orecchie sono mie ha preso degli addio e ciao voi finirete nella spazzatura come hai potuto fare una cosa simile? te lo sei meritato dovresti ringraziarmi addio i miei giocattoli sono spariti forse dovrei prepararle uno spuntino ho così tanta fame oh per me? sì grazie beh ma certo sì è così le preparerò uno spuntino che adorerà che fai? uno spuntino? oh grazie certo niente abbracci dammi il 5 suppongo che potrei prepararle qualcosa e il cioccolato sarà la star dello spettacolo quello cos'è? ho uno spuntino a cui non potrà resistere che non ama i marshmallow e questo è solo l'inizio è ora di fare un tuffo non male se lo dici tu fammi pensare deve esserci qualcosa un vecchio cavoletto di Bruxelles? come nuovo prendi questo piccolo cavoletto fatto ora ti immergo nel cioccolato sta venendo bene? o almeno così sembra oh cielo il mio spuntino è molto più buono ed è ora di aggiungere gli zuccherini tantissimi che spettacolo se lo dici tu zuccherini eh? ups eccoci qua fatto così non si sporcherà ecco fatto è pronto anche il mio vedi? che il migliore spuntino vinca andiamo allora mi annoio anche io allora qualcuno ha fame? sì abbiamo una sorpresa per te wow davvero che strano odore il mio profumo che buono è squisito grazie mille allora ti piace? e tu? non lo so ma che diavolo è? che schifo verdure mi fai morire hai visto la sua faccia? il pranzo è quasi pronto ah sì che profumino posso toglierli dalla padella saranno ottimi che buon odore e in men che non si dica il pranzo è pronto ed è anche a portar via adoro quando sono così organizzata ma aspetta ho preparato tutto troppo presto devo tenere il pranzo al caldo mi serve solo un po' d'acqua calda a temperatura perfetta questo trucco funziona sempre ops non ho un orologio e ora aspettiamo bene sarà ora? sì lo è non ho più bisogno dell'acqua grazie per il tuo aiuto il pranzo sarà così bello caldo questa carta assorbirà tutta l'acqua in eccesso non voglio mangiare dei nugget bagnati è ora di aggiungerli qui starete al caldo il mio pranzo rimarrà alla temperatura giusta ah che bel trucchetto cos'è? il mio pranzo ovviamente il mio pranzo caldo oh mi sono dimenticata dovrei preparare qualcosa al volo immagino che questo potrà andare un panino ci sta sempre bene giusto? ma quanto avrà? non è freschissimo ma andrà bene no non lì dentro come vuoi aspetta userò questo vecchio sacco della spazzatura no non farlo che c'è? è troppo disgustoso non usarlo Annie no caspita che c'è? che ne dici di questa? ci va a pennello io sono pronta che ne pensi? io mi arrendo se sta bene a te questo compito è così complicato ah questo lo so oh è stato difficile ehi mamma scusa se ti disturbo tesoro volevo solo portarti da bere stai lavorando così duramente ecco qui grazie mamma ok devo finire adesso mamma c'è troppo rumore farò piano oh zitto ho detto di stare zitto adesso va meglio oh no la porta e adesso ci penso io no non ci tofonerai c'è un genio al lavoro oh un pacco grazie ok non consegnerò più in questa casa va meglio oh scusami ti lascio lavorare la mia mamma è così buona ci sono così tanti compiti oh adesso ho capito non è così difficile ciao mamma oh chi è stato? ups ho versato del caffè mi dispiace adesso devo ricominciare ti ho chiesto scusa fa piano la mamma sta guardando un video è così divertente questo canale è fantastico è accidente mamma non riesco a concentrarmi certo che hai un caratterino ok smetto di guardarlo è così difficile studiare qui dentro ehi guarda qui scommetto che non sapevi che ero una rock etara ah si rock mamma ti prego come sei difficile scusa ah un belletto caldo eccomi qui al caldiccio notte mamma prima di dormire ho pensato che potrei leggerti una storia sì una con una principessa c'era una volta un pagliaccio divertente perché ti sei fermata? ciao Betty sono Coco il pagliaccio mi piace essere sciocchino sì questa è la migliore storia di sempre un giorno incontrò una fata madrina magica è così carina ho tanto sonno oh ma com'è dolce la mia piccola bella addormentata sogni d'oro tesoro mio mamma 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 svegliati mamma voglio la favola della buonanotte mamma dove sono? pensavo potessi leggermi questo un libro? che noia facciamo qualcosa di divertente leggiamo storie di fantasmi ma io ho paura c'era una vecchia strega che amava mangiare i bambini un malvagio spaventapasseri chi viveva qui e di notte lo si sente ancora ho fame stai indietro devo fare silenzio mamma non mi deve sentire voglio qualcosa di delizioso ma qui non c'è nulla dove sono le mie caramelle? oh lo so niente forse la mamma le ha spostate eccole così tante che stai facendo qui signorina? metti giù quelle caramelle dammele non dovresti sgattaiolare in giro se vuoi delle caramelle devi solo chiedere ah deliziose ops mi stavo per dimenticare queste potevano essere mie bene la mamma non c'è non posso lasciare niente in giro metterò l'ultimo qui dentro non posso credere di doverli nascondere penso proprio che dovrò nasconderli meglio ecco qui dovrebbe andar bene non li troverà mai è stato un ottimo spuntino mamma che sta succedendo? oh ehi hai mangiato il mio cioccolato non sono stata sei o non hai alcuna prova mamma sono a casa oggi mi sono divertita a giocare mi sono tagliata mamma aiutami sei a casa sei ferita oh no la mamma sta arrivando fa vedere alla tua mamma è il peggior taglio che abbia mai visto fa malissimo fa qualcosa mamma c'è solo una cosa da fare ma giochiamo a travestirci questo è un lavoro per una mamma infermiera temo che non finirà bene qualche benda e penso che starai benissimo devi sdraiarti credo che sei sotto shock mamma aiuto sono caduta e mi fa male che ti è successo? oh bene immagino che adesso vuoi che sistemi tutto io oh quanto sangue tieni questo mi sento un po' stordita è tutto ok abbiamo la carta igienica ma mi serve un cerotto ma che dici questa va più che bene ecco è tutto a posto ridammi le patatine sono troppo ridicola mamma ciao mamma cosa c'è che non va tesoro? di tutto alla mamma è questo gioco mettiamolo via va tutto bene la mamma è qui è solo uno stupido gioco sta tranquilla questi peluche sono così carini no i robot sono più fighi wow un unicorno è così magico l'ho visto prima io dammelo e molla dai è mio no guarda che cosa hai fatto è stata colpa tua povero unicorno è così ingiusto ah ho le mie orecchie cos'è questo baccano? calmatevi ha distrutto il mio unicorno è tutta colpa di me Edison ok penna 3D non deludermi e intanto mi serve un pastello abbozzo un cuore prendo la penna 3D e la uso per riempirlo usando colori diversi mi assicuro di rimanere all'interno delle linee e di non lasciare nessuno spazio vuoto wow niente male ma c'è ancora del lavoro qui non c'è tempo da perdere ora posso ricucirlo accidenti che ansia sento davvero la pressione taglio il filo in eccesso e applico un cerotto non arrenderti piccoletto più un recupero completo bene wow grazie papà guarda Alex è adorabile ehi come va? bella giornata eh? certo che fa caldo ma devo andare avanti ce l'ho fatta ringrazio mamma papà oh sono esausto le gambe mi fanno malissimo che male ma ne è valsa la pena ah devo riposare ehi ce l'hai fatta guarda qui mi viene da piangere non riesco a muovere le gambe tutto bene? no per nulla non mi muovo più da qui via queste scarpe finalmente ma che cosa hai fatto i piedi devono far male aspetta ti aiuto dovrebbe andare meglio no un po' d'acqua che ne dici? no come prima torno subito dai pensa il congelatore ecco che cosa mi serve perfetto svuoto i cubetti di ghiaccio non ne ho bisogno mi serve questo lo metto sul piano di lavoro e cospargo di brillantini poi ho bisogno di una pistola per colla ne metto un po' in ogni sezione fino in cima così con questa si fa subito devo essere veloce ci passo sopra altri brillantini coprendo per beni e poi lascio che la colla faccia presa capovolgo il vassoio do qualche colpettino e adesso dovrebbe staccarsi con questo Alex starà molto meglio ah sì che bello sapevo ti sarebbe piaciuto è stato come un massaggio i miei piedi stanno molto meglio ce l'abbiamo fatta sono pronto a partire ehi non dimentichi qualcosa? Madison ne sarà entusiasta sarà così romantico ehi Madison ho qualcosa per te cosa non ci credo è bellissimo non quanto te oh sì sarà fantastico lo metto qui non voglio perderlo è tutto pronto lo infilo nello zaino e posso andare coraggio sarà il giorno più bello di sempre non vedo l'ora di vedere come reagirà Madison niente può rovinare questo momento ho pianificato tutto Alex sei qui sono così felice ho qualcosa per te ma dov'è finito? è solo un secondo è qui da qualche parte o almeno spero che emozione aspetta dai non può essere tutto bene? ho perso il tuo regalo aspetta che c'è? tutto bene? sì so come fare questa farfalla mi ha ispirato metto un foglio di plastica sopra questo disegno e lo tengo fermo con lo scotch poi ricalco con la penna 3D comincio dall'esterno fin qui tutto bene l'ala è finita ora passiamo ai dettagli faccio dei cerchietti con la penna e poi finisco il resto proprio così sta venendo bene ora passo al corpo beh metà corpo lo attacco a una catenina e faccio lo stesso con l'altra metà questi orecchini sono per te cosa davvero li adoro Alex sono stupendi li metto subito io ce l'ho fatta sei incredibile è il regalo migliore di sempre grazie qualsiasi cosa per te servono tante perline per questa creazione so già che ti piacerà un sacco prendo la pistola per colla verso la colla sulle perline mi assicuro che tutta la forma sia ricoperta nessuno vuole un cuore spezzato e quest'anello è stupendo sì è proprio bello ma io ho una penna 3d disegno il contorno di un fiore ora posso riempirlo iniziando dai petali per adesso lascio vuota la parte centrale cambio colore uso il giallo per il centro del fiore imprimo l'anello sul fiore e voilà wow il solo guardarlo mi rende felice tutti amano i fiori guarda bambolina guarda quella collana è splendida aspetta quanto costa? 900 dollari è uno scherzo vero? oh la mia testa piovono riviste non riuscirò mai a permettermela non è giusto che posso comprare con 10 dollari? è ora di toglierti dai guai spero che il costume funzioni chi sei? non è importante per caso questa è tua? sì guarda questa collana su di me sarebbe favolosa ma è troppo costosa aspetta ti devo far vedere una cosa wow davvero non ho parole hai un sacco di plastilina cioè la porti tutto il giorno in giro con te? perché è una cosa un po' strana non giudicarmi cerco solo di aiutare ok potremmo usarla per creare la collana oh mi piacerebbe voglio questo qui il blu è il mio preferito troppo gentile ma ha un prezzo spero che questo basti se paghi in contanti meglio controllo che non sia falsa devo mettermi al lavoro formo un disco con la plastilina ho ricavato il tubo dalla metà di una siringa lo uso per rimuovere due cerchietti dal disco sembra che vada bene arrotolo due pezzi di argilla bianca e li collo con i buchi adesso uso un goniometro per tagliare il disco a metà e ora mi serve un bicchiere rimuovo una sezione dalla plastilina la metto da parte e appiccico la plastilina nera poi attacco anche l'altro pezzo lo modello per farlo sembrare una bocca lo arrotolo piano per eliminare la giuntura così dovrebbe andare lo taglio con un righello di metallo verranno dei dischi sottili ma devo fare attenzione a non schiacciarli credo che possa bastare mi ricorda proprio qualcuno ora la trasformo in una collana ho preso un gancetto lo inserisco nella plastilina aggiungo altri dischetti fino a ottenere una collana di blu ho aggiunto una catenella a ogni estremità guarda qui come ti sembra? wow è stupenda il mio lavoro è concluso ciao misterioso sconosciuto che persona gentile non hai bisogno di gioielli bambolina tranquilla ci penso io ho un po' di plastilina avanzata wow che sì che siamo abbinate su andiamo a sfoggiare i nostri nuovi gioielli attenti ragazzi voglio che rispondiate a questa domanda è bella tosta lo è davvero avrei dovuto studiare di più non ne so niente di niente no te lo puoi scordare ehi lasciami in pace oh no la mia penna ehi Mickey hai una penna in più? la mia è tutta mangiucchiata oh aspetta ecco qui ok al lavoro so che avrò un brutto voto oh è uno scherzo vero? cos'è stato? la mia penna strega shh come va? puoi prestarmi una penna? farei di tutto per te Ashley due di fila? perché continuo a succedermi? non ci credo sono più forte di quanto pensassi il tempo sta per scadere devo sbrigarmi queste non posso usarle più ah qualcuno può aiutarmi? non ci pensare neanche aspetta perché mi guardi così? trovati un altro idiota non hanno tutti i torti mi scusi avrebbe una penna? nessun problema Ashley prendi pure questa non si fermi via le penne mi sono persa qualcosa? va bene sai credo di aver perso tutte le penne ma prima l'aveva in mano non ho idea di che cosa tu stia parlando ok mi accontenterò di questa oh è tutto inutile non riesco più a guardarla so cosa fare uso il serbatoio d'inchiostro della penna le farò una penna indistruttibile ho uno stampo per penna ci metto il serbatoio con l'inchiostro e lo decoro metto dei petali di fiori nello stampo verrà qualcosa di splendido ho qui una boccetta di glitter la verso sulla resina epossidica e poi do una mescolata voglio assicurarmi che sia omogeneo sembra che vada bene verso la resina epossidica nello stampo e passo a ricoprire i fiori voglio riempirlo fino in fondo aspetto che si solidifichi adesso posso rimuoverla dallo stampo è venuta via subito wow che bella meglio darla ad Ashley wow è per me questa non vedo l'ora di provarla guarda quell'azione andiamo Ashley non scherzare ehi è ancora tutta intera è una penna straordinaria controllerò di nuovo eh sì è a prova di Ashley che montagne russe emotive brava grazie voto massimo per tutti è il gran giorno posso scatenarmi e divertirmi un botto che cosa mi metto vediamo questo sembra carino sì ottima scelta meglio che mi prepari wow come sto bene ma qui manca qualcosa voglio farmi notare ho in mente l'accessorio perfetto proprio quello che volevo come sono emozionata wow che bella con questa il mio outfit farà scintille garantito voglio vedere come mi sta oddio sono stupenda ora sono pronta aspetta oh la tiara di Ashley era patetica mi sarei dispiaciuta per lei se non avessi riso così tanto non voglio più indossare questa roba non prendiamoci in giro non sono una da feste penso che andrò a rannicchiarmi sul divano e a commiserarmi non uscirò mai più di casa che succede? wow vedo che sto perfezionando gli atterraggi oh qualcosa non va Ashley tutto ok? non mi succedono mai cose belle ahhh che succede? chi sei? e come hai fatto a entrare qui? sono la tua fatta madrina quale sarebbe il problema? non è evidente volevo solo farmi bella per la festa tutto qui? andrai al ballo volevo dire alla festa non conciata così fa qualcosa scusa è la nuova bacchetta mi ci devo abituare non farlo più e adesso? tutto ok dammi solo un momento magari se noi ahhh aspetta è una bacchetta dall'aria strana ma credo di saperla usare facciamo un makeover a questa tiara uso la penna 3D per ricalcare la tiara la passo intorno alle gemme voglio creare una struttura amo questo colore ora lo cambio quindi riempio le pietre preziose proseguendo fino ai bordi non posso dimenticare le gemme più piccole ora posso rimuoverla con cura saluta la tua tiara rimessa a nuovo lo so è fantastica e sono fantastica ecco qui oddio mi sto emozionando è la misura perfetta aspetta che succede? questa parte ti piacerà wow è incredibile gli occhiali non vanno bene col vestito wow guardami sono bellissima grazie mille ah? dov'è finita? non ho potuto dirti quanto questo significhi per me ma ti ringrazio ora facciamo festa lò lò ciao benvenuti nella mia cucina sei una sirena fantastica bambolina cos'è questo profumo? mamma ha fatto i cupcake oh come sono belli giù le mani abbiamo un problema tecnico ne voglio uno te lo scordi ah sei cattiva crede di essere tanto brava finisco la tua coda dove ero rimasta alla crema sì diceva signora cane me lo ripeto oh mi sembra ottimo e ora una deliziosa ricetta a base di pomodoro aspetta non farlo Ashley come va? lei è il mio cane ama le passeggiate sulla spiaggia Ashley oh ciao mamma fuori di qui scusa volevo diventare virale metto i miei cupcake qui sopra è la nostra opportunità sarà il delitto perfetto mamma non sospetta niente ehi senti sono una star dei social mettiamoci a cucinare prendo questa ciotola ma dov'è finita? oh sarà qui da qualche parte dovevo immaginarlo è così buono vedete con che cosa ho a che fare? ehi ridammela tu vieni con me ridammi la ciotola non so di che stai parlando hai della glassa sul naso oh come ha fatto ad arrivarci sarà uno dei piccoli misteri della vita fine dello show va tutto a rotoli magari posso sistemare dammi un momento mi dispiace molto volevo solo intrattenervi sono una buona nulla mamma guarda un po' ti piace la sensazione? oh questo punto qui aspetta fa un po' vedere Ashley che cosa hai fatto? questa è la mia frusta cercavo solo di aiutarti oh aspetta fammi pensare ci sono cosa dovrei farci con questa? aspetta ci sono vi piacerà moltissimo prendo la plastica arrotolata taglio le estremità poi le avvolgo una attorno all'altra e ora mi serve la penna 3D la uso per fondere i pezzi insieme poi costruisco la frusta voglio creare un manico ho una frusta piccola e pratica non è meravigliosa? sarà disponibile sul mio shop online hai uno shop? comunque ecco la tua ciotola lei è la mia assistente la frusta fa il suo dovere come si spegne questa roba? più che giornata devo rilassarmi adesso è stato faticoso oh sì che bella sensazione mi ci voleva proprio ritocchiamo velocemente il rossetto ma dov'è? così va meglio ah eccolo qui grazie Annie che stai facendo? no non farlo adoro questa tonalità guarda che è mio vedi di ricordartelo wow quanto siamo permalose no non credo proprio smettila Ava dico sul serio adesso mi arrabbio smettila se no che fai? adesso lo vuoi ancora? non mi sfidare non mi sfidare che te ne pare? ah sì allora guarda questo sta meglio a me che a te sembri un clown un clown davvero cattivo basta ne ho abbastanza è mio tutto mio bel tentativo Annie quindi non era il mio rossetto cavolo che imbarazzo devo scusarmi con Annie aspetta ho un'idea mi servirà la penna 3D inizio a ricoprire il tubetto con il filamento girandoci intorno faccio più strati in questo modo continuo così fino ad arrivare alla base e poi ricopro completamente anche questa parte perfetto ho usato la penna 3D per realizzare una lettera A questa qui vedete? la incollo al tubetto e ho finito oh ecco che arriva Annie Annie questo è per te che cos'è? è il mio rossetto? wow è davvero forte grazie Ava scusa per prima guarda che cosa ho trovato non ci credo è come il mio questo ti piacerà da matti prendi un cerchio di plastilina e mettici sopra due stampi a forma di cuore premi delicatamente rimuovi con cura la plastilina in eccesso poi metti da parte gli stampi riempi il cuore con della resina epossilica usa una siringa così sarà più facile lascia asciugare la resina e poi mettici sopra un po' di glitter e anche un altro cuoricino visto che bella collana wow guarda che roba meraviglia un altro taglio e il mio bracciale è finito davvero carino oh Jennifer è a casa ciao Luna ciao ma un momento hai i piercing già belli vero? volevo qualcosa di diverso voglio essere anch'io originale così facciamoci piercing insieme questa sì che è una bella idea andiamo ciao ti ricordi di me? ho un'altra vittima cioè cliente lei? sul serio? forse posso far sembrare cool anche lei mettiti qui ti piacerà vedrai? ah immagino di sì allora pensavo di fare dei piercing qui ottimo a lavoro allora una chiacchierona farà un po' male quello è l'ago uno degli aghi non muoverti non muoverti ho detto no che imbarazzo l'ago era enorme ma volevo tantissimo il piercing beh ormai non possiamo farci niente o forse sì ho avuto un'idea ci serve solo un po' di colla per ciglia e queste perline proviamoci metto un po' di colla sulla perlina poi la premo sulla tua pelle così facciamoci un piercing al naso wow fantastico magari ci avessi pensato io ecco l'ultima wow grazie tutto senza aghi e dolori e stai benissimo amiche di piercing la mamma si infurierà oh che giornata wow non così in fretta devo fare un controllo veloce interessanti queste scarpe no non puoi passare scherzi vedi il cartello niente scarpe oh ok wow quante crocs come farò a riconoscere le mie qualcuno me le ruberà lo so no non posso permettermelo deve esserci qualcosa che posso fare pop pop come mi diverto oh ecco che cosa mi serve lo prendo io eeeh oh scusami tieni in cambio ho una bibita grazie non c'è di che ne ho proprio bisogno devo personalizzarmi le scarpe prima taglio via le bollicine dal pop it così daranno colore le metto sopra le mie scarpe e uso la colla per farle aderire mescolo i colori per fare un look più vivace ed è quasi fatto wow sandali personalizzati adesso le riconoscerò subito le altre sono tutte uguali ok posso entrare adesso? divertiti ora posso rilassarmi devo tornare a casa prendo le mie scarpe oh ma dove sono finite? qualcuno le ha prese pap 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 che belle scarpe però che odorino che hanno ciao pap 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 oh che tenerezza altro giorno altri soldi aspetta hai qualcosa di fluo? ecco ok puoi entrare divertiti wow cosa c'è? un party fluo il tuo dov'è? no dico guarda il mio look ti sembra che mi serva altro? guarda il cartello fluo visto? va bene facciamo festa cioè dovrei vestirmi in quel modo? aspetta da qui ehi che stai facendo? insomma era la mia bibita userò un po' di plastica e la penna 3D lascio un po' di spazio tra ogni spirale continuo così per tutta la lunghezza del bicchiere questo rosa è così bello ancora un po' così dovrebbe bastare poi metto la mano nel bicchiere e faccio scivolare il bracciale sul polso ecco un bel braccialetto il bicchiere non mi serve più alt vediamo la roba fluo tada va bene adesso? vediamo non saprei che ne dici? puoi andare? allora avanti fammi entrare va bene mi piace puoi andare finalmente sì ok ma la mia bibita? vado di fretta ok non fare caso a me ma che fai? non ho tempo di spiegartelo ehi rallenta che succede? come mai così tanta fretta? ho un appuntamento con Chris guardalo quanto è carino se lo dici tu dovevo immaginarlo devo prepararmi devo essere bellissima anzi perfetta rilassati andrà tutto bene ok credo di essere pronta mi serve una collana oh non male questa mi sta sempre bene ah non riesco a chiuderla non mi entra più Luna mi aiuti per favore ok da qua ecco qui no 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 la mia collana oh che disastro e adesso come faccio? mi dispiace forse posso rimediare deve esserci qualcosa che posso fare ci sono userò questa penna 3D posso usarla per disegnare su questo busto disegno piccole spirali con la penna tutte intorno al collo del busto ancora altre spirali continuo così ecco credo che basti un bellissimo choker Jennifer guarda che cosa ho qui cosa? oh l'hai fatta tu sì per te wow grazie la adoro mi sta benissimo wow sì ma devi sbrigarti su divertiti ah cosa è stato? evviva ah oh giorno è ora di iniziare questa bellissima giornata eh già oh che mi dici se faccio questo? sì eh posso farlo anch'io interessante ma puoi avere dei capelli così favolosi penso di no sono del tutto unici e posso infilarci persino dei fiori vedi? oh anche io posso fare quella cosa con i fiori eccone uno ora come faccio a non ci sta cavolo vediamo oh ho bisogno di qualcosa di appiccicoso queste andranno bene trasformerò queste mollette in qualcosa di favoloso ho solo bisogno di qualche altro piccolo strumento vedi questa molletta? userò una penna 3D per creare un bel design ho scelto il mio colore preferito il blu ora vedi questa riga lunga di colla? deve essere ancora più lunga ci sono quasi vedi come ho creato una grande spirale? si indurirà e manterrà la forma adesso ho una bella molla come molleggia wow ora metterò le mollette tra i capelli non sono belli tutti questi colori bene mi stavo dimenticando la parte più importante ora ho i ricci belli proprio come i tuoi oh guarda come muovi i fianchi rimanere a casa è stata la decisione migliore cosa stai guardando? ehi posso averne anch'io non adesso oh scusa allora eccoti qua il giallo è il mio preferito com'è gommosa ehm mia che c'è? ancora una? ok va bene ma è l'ultima grande ehi mia e adesso che c'è? ne voglio ancora certo che non vuoi proprio condividere le tue caramelle ma forse so come rimediare bene sto arrivando dammi quelle caramelle gommose lasciale devo ammettere che sono un vero genio non posso credere che tu ci abbia messo dentro la mano aspetta come fanno a stare tutte appiccicate alla tua mano? so cosa fare torno subito gustose mi servono soltanto un paio di cose vuoi vedere come ha fatto? attaccherò un orsetto gommoso a questo braccialetto di silicone bisogna infilarla per bene poi aggiungerò delle altre tutto intorno al braccialetto ho scelto tutti i colori dell'arcobaleno ora basta versare la resina sopra gli orsetti bisogna andare piano e passare sopra tutti gli orsetti e una volta fatto tutto aspettiamo tutta la notte un nuovo giorno e questo significa che il mio nuovo braccialetto è pronto basta estrarlo dallo stampo in silicone e si è indurito vedi? e sta benissimo intorno al polso vieni dalla mamma ti piace? wow come hai fatto? ma dentro ci sono degli orsetti gommosi basta domande oh vabbè sai che c'è? puoi averle tutte veramente? sì ma certo questo è il giorno più bello della mia vita concordo ehi guarda quante conchiglie voglio quella grande voglio portarla a casa con me e questa è ancora più figa wow sei così bella a tutti piacciono le conchiglie credo oh wow questa conchiglia deve avere poteri speciali dopotutto mi ha fatto trovare la mia anima gemella sì ti terrò per sempre ora cosa abbiamo qui? molto bella ehi Olivia cosa stai? oh quelle conchiglie sono così sporche non badare a me mia no la mia preziosa conchiglia è stato un incidente dovresti vergognarti per quello che hai fatto la mia vita sentimentale ora è rovinata è tutto ok no non lo è cos'è quello laggiù? io lo so posso usare questa resina per riparare la conchiglia guarda e impara metterò tutti i tuoi pezzi proprio qui non avranno questo aspetto per molto a lungo ora mi servono due bicchieri di plastica trasparenti e ci verserò dentro della resina una volta riempito un bicchiere bisogna riempire l'altro perfetto e ora arriviamo alla parte più divertente i colori in realtà ci servono pochissime gocce in questo caso meno è meglio ora devo mescolare per bene e mi servono questi palloncini e no non servono gonchi ma vedi quanto sono elastici? useremo questa elasticità a nostro vantaggio e ora ti faccio vedere come trasformo i pezzi di conchiglia in qualcosa di nuovo li metterò dentro al palloncino uno per uno potrebbe volerci un pochino ma ne varrà la pena ora servono diversi stuzzicadenti ne userò uno per forare il bordo del palloncino dovrò metterci un po' di forza una volta infilati due adagerò il palloncino dentro un'ampolla ora entra in scena la resina colorata basta versarla molto lentamente in modo da farla entrare nel buco del palloncino una volta che arrivate in cima aspettiamo vuoi vedere cosa ho creato? ti piacerà? degli orecchini conchiglia non sono spettacolari? oh Olivia? eh? ma cosa sono? i tuoi nuovi orecchini conchiglia ovviamente ma sono davvero adorabili sono molto più speciali in questo modo non credi? sei la migliore mia trovare il filtro migliore è così complicato sorridi wow questo posto è figo ehi ragazze hai portato il tuo cappello? in realtà sì non è carino oh decisamente degno di Instagram taggami ok? non sapevo che oggi bisognava indossare un cappello ora come faccio? penso di avere un'idea davvero geniale che diavolo sta bene? sei impazzita? perché mi guardate tutte in quel modo? non piangere Olivia ecco non lo voglio più grazie in realtà ci deve essere un'opzione migliore guarda cosa farò metterò la buccia dell'anguria a faccia in giù poi prenderò la mia penna 3D inizierò dalla cima creerò prima un punto e poi una linea lungo il lato deve prima apparire così e solo dopo posso iniziare a riempire tutti gli spazi vuoti devo fare una sezione alla volta e cercare di non lasciare nessuno spazio vuoto ora un'altra riga qua giù e un'altra qui poi le collegherò quindi bisogna riempire di nuovo lo spazio vuoto sembra proprio che ci siamo queste righe qui sono puramente decorative ora aggiungerò delle piccole macchie nere queste macchie ti ricordano qualcosa ti do un suggerimento ti sono ispirata all'anguria sono semi, vedi? ora vediamo se funziona hai detto che volevi un cappello, giusto? beh, ne ho creato uno davvero unico ti piace? wow, devo fare una foto è così felice ecco, tutte quante noi ti faremo delle foto ma guardate, non è carina adorabile wow, questa festa è strepitosa ehi, dai un'occhiata a queste fantastiche luci ehi, non così in fretta fai la tranquilla, come me caspiterina, c'è Kevin ciao che tipo di snack ci sono qui? Olivia? dove è andata? Olivia? Olivia? eh? eh, arrivo dove sei? ero al tavolo degli snack meno male non posso rischiare di perderti di nuovo ho bisogno che tu brilli luminosa come queste stelle prenderò un grande bastoncino di legno come questo e tirerò fuori il glitter più bello che possiedo in questo caso il fluorescente è un must ora è il momento di versare sopra la resina ce ne vuole una discreta quantità basterà versare in un bicchierino di plastica non troppo ora cospargerò il glitter sopra mescolerò per bene con un bastoncino di legno vedi come è bella e appiccicosa questo significa che è pronta per lasciarla indurire nel frattempo prenderò un piccolo contenitore di plastica come questo e ci verserò dentro la resina colorata solo un piccolo consiglio più lentamente vai meno disordinato sarà adesso aspettiamo ora posso toglierla dallo stampo vedi come si è indurita? ora la metterò come pendente su una catenina e ho fatto devo ammettere che è venuto proprio bene è ora di dare la collana ad Olivia ecco! wow! ma brilla come una stella! ora riuscirò sempre a trovarti ci vediamo? questa è la mia canzone preferita oh ehi! aspetta forse posso ancora trovarla aspetta no se n'è andata oh no! aspetta mi sembra di vedere qualcosa brilla vedo il bagliore Olivia! aspetta perché ha un mocio? non mi importa sono solo felice di averti trovata non posso credere di averti persi di nuovo ecco ti servono questi oh grazie o molto meglio sei tu o sei Olivia? allora tu chi sei? oh mi dispiace così tanto una pazza va bene ora basta non ti allontanare più oh già la chiave ma dove l'ho messa? certo sarà meglio il fai deve pure essere da qualche parte no dai sul seno non la trovo ma ho un'idea mi ciccoffo dentro vediamo allora panatine libri devo andare più a fondo eccola l'ho trovata oh che faticazzo ci devi adesso ci siamo ok adesso posso aprirlo aspetta un attimo ho un'idea migliore ho la mia penna per il e ho un cuorecino per disegnare basta seguire il disegno bene adesso posso rinchiere proprio lì questa è la mia parte preferita dei disegni critico adoro fare queste veri così lunghe ok il cuore è fatto adesso mi basterà staccare le portacchiate in questo modo e fatto è finito bellissimo adesso non perderò più le chiave era quello che ci voleva che balletto divertente oh chi sarà vado io ma ci stavamo scatenando è arrivato un pacco sì sono le mie crocs sono bellissime le adoro wow che invidia le mie sono così insieme ma forse posso migliorarle disegno un fiorelino e prendo la vestidata penna per il video due petali fatti adesso li apri traccio le linee avanti e indietro e voilà adesso con il giallo coloro incerto oh è venuto davvero carino adesso facciamo una fragona sì tracciamo tutto il contorno così poi usiamo il verde e naturalmente il resto sarà rosso verrà proprio bellissima e adesso un'astellina in questo caso non mi serve neanche un modello la disegno a mano libera così il giallo renderà tutto luminoso e scintillante ed eccoci il momento delle scatte la stellina la mettiamo qui e qui le altre decorazioni ah sì così va molto meglio proviamole oh ma che meraviglia le adoro proprio un gran bel lavoro Kate tieni ti regalo il fiore oh grazie vuoi vedere qualcosa di fantastico? guarda che cos'altro ho qui queste le metto sopra le scatte così avranno un nuovo look ho usato la penna 3D per fare anche questo sono stupendo ma noi stavamo ballando e adesso abbiamo anche le scarpe nuove ho quasi finito di lavare il piatto oh no un'altra tazza signorina lava anche questa vabbè questa è base no ma come fa a sporcharsi così una tazza? ma che lavano? oh no si è rotta meno male è ancora intera oh no la mamma mi ucciderà accidente ma forse posso aggiustarlo niente colla e qui la mia adorata penna 3D basta riempire la truta in questo modo con lo stesso colore così il danno sarà invisibile poi via lungo tutto il manico lungo il bordo così non ci vorrà molto fatto da questo lato procediamo dedichiamoci alla parte sopra e sotto del manico dal tronde la parte più importante della tazza bisogna fare bene questo lavoro ecco qui ciao tieni del succo ma guarda hai decorato il manico è successo per caso qualcosa? no beh adesso è più saldo in effetti grazie di un succo meno male ha funzionato e scusa risposti devo aprire la chiave chissà che sta facendo ferma impalata qui accidenti la campanella oh no si è incastrata la donna oh si è proprio blocchato qui dentro mi serve uno step oh no meglio non provarci neanche finirebbe in un disastro guarda che buco accidenti ma un attimo con la penna 3D meno male che la porto sempre con me basterà tracciare un bel disegno in torno allo strappo così e poi riempirlo devo stare attento a riempire tutto ok il prossimo colore adesso riempiamo anche questa parte così ecco il buco non c'è più e aggiungiamo dei dettagli orecchi occhie qui nase e bocca naturalmente oh che bambina carina prima c'era uno strappo e adesso c'è un musetto adorabile il lupo aveva grandi gianni ma anche un cuore d'oro e quando la principessa lo accarezzò lui si accovacciò i suoi piedi e da quel giorno diventarono grandi amici oh si è addormentata le rinvocco le coperte allora adesso esco in punto di piedi oh no non ci volevo ti prego non ti svegliare ah torna in te però al tavolo le ho letto la bambola quando lo scoprirà andrà su tutte le furie e adesso che faccio? oh ci sono vieni qui bambolina ti rimettiamo in sesto non deludermi penna 3D conto su di te eh disegniamo delle scaglie come quelle dei pesci così sarà una perfetta coda da sirena adesso le dimmi e con il giallo facciamo qualche dettaglio ma useremo tantissimi altri colori molto bene quasi tutto il finale adesso un altro po' di giallo qui su missione compiuta ed è venuta proprio carina quando la vedrà sarà al settimo cielo devo dire che me la sono cavata alla grande lascerò qui la bambolina così la vede subito sogni dono il lupo vuole il gelato ah che meraviglia adoro i popcorn dov'è finito? dov'è? forse sotto i cuscini ma che stai facendo? smettila di tirarmi in faccio i cuscini forse sotto le tue gambe? niente da fare ho visto dappertutto ma che stai cercando? ho perso un orecchino non riesco a trovarlo questa fogliolina gli somiglia dammi un secondo allora risolvo io il tuo problema la penna 3D ci verrà in soccorso che bello il verde adesso l'altro lato è divertente ricalzare una vera foglia adesso la togliamo è venuta davvero realistica incolliamo un gancino così perfetto pronti per essere indossati guarda cosa ho fatto per te sì sono bellissimi come mi stanno? che ne pensi? oh sì oddio sono stupendi sembrano vere fogli grazie adesso non dovrai più mettere casa sotto sopra sta venendo proprio bene una delle mie opere migliori sembra così vivo mamma guarda questo diventerò uno skateboarder grande eh? mi sembra meraviglioso caro ma prima che tu vada ti darò un paio di cose ah di che cosa stai parlando? ehi mi piace quel casco non perderlo mi raccomando proteggerà la tua testa ok ciao mamma non così veloce stai dimenticando qualcosa mamma rovinerai la mia reputazione non discutere già Red ora sta fermo ma è proprio necessario la prudenza non è mai troppa assomiglio a Marshmallow mamma sono ridicolo so quello che faccio posso andare ora per favore va bene puoi andare wow come corre vado a tutta birra non troppo veloce ricorda sento il vento tra i capelli stai andando forte ah un altro giorno senza far niente un classico ciao papà guarda sono attrezzata per lo skateboard ho tutto ciò che mi serve si fa come ti pare anche se quella tavola è adorabile fa un po' vedere ai miei tempi ero un asso dello skateboard già guarda quelle cose che girano le ruote certo papà quello è il mio skateboard te lo ridò tra poco tesoro mi prendi in giro ormai sono ore che non scendi da lì delizioso è una delizia per le papille papà papà questa è un'emergenza mi è spuntato un brufolo che cosa devo fare? stasera ho un appuntamento con Kevin si Kevin è proprio un bel fusto lo risolvo io il problema questo metodo ha sempre funzionato che stai facendo? tieni quel pollice lontano da me lo vuoi il mio aiuto o no? non ti muovere sei sicuro che funzionerà? è un brufolo ostinato fammi pensare bisogna spremerlo preparati uh allora la buona notizia è che non hai un brufolo la cattiva notizia è che sono tre mi prendi in giro è tutta colpa tua non te la prendere è semplicissimo certo il rimedio che ci vuole questo risolverà tutti i tuoi problemi con i brufoli basta infilarci la testa vedi? e i brufoli spariscono non posso mica uscire così papà perché? cosa c'è che non va? divertiti tesoro chiedi a Kevin se vuole uscire qualche volta vai altrimenti farai tardi la mia bambina diventa grande dove l'ho rimasto? oh wow che articolo commovente piu piu questo gioco è il top ma quello è un brufolo? oh sì certo che lo è perché non ci fai neanche caso? dobbiamo sbarazzarcene va bene tesoro mamma è qui sono preparata per questo momento deve esserci qualcosa da usare per sbarazzarcene forse questa siringa ma no ma che dico sono nel panico devo darmi una calmata non è niente di che mamma che cosa faccio adesso? non c'è nient'altro ti ho deluso Jared ho detto che non fa niente mamma aspetta posso chiamare un amico? ti prego rispondi mi chiamano pronto? oh un brufolo oh no ci penso io conosco un rimedio il dentifricio è tutto sotto controllo Jared torno subito devo agire in fretta ah è quello che cercavo con questo il brufolo sparirà sul serio mamma? dobbiamo fare in fretta metto il dentifricio sul brufolo e lo faccio agire poi possiamo rimuoverlo e il brufolo è sparito che sollievo mamma tu hai un problema mi serve una pausa non c'è niente come un bel pasto nutriente mamma posso avere un dolcetto? per favore dai ti prego va bene ma solo uno altrimenti poi a cena non mangi niente ecco qui a me a me a me quale vuoi? questo qui sarà buonissimo ho un debole per il cioccolato è buonissimo ricorda solo uno eh dai nessuno ne prende solo uno sei proprio ingiusta va bene puoi prendere un po' di frutta che ne dici di una mela? beh io voglio i dolci no niente più dolci oh niente dolci allora niente Jared che scena melodrammatica devo nascondere meglio i dolci non si arrenderà la maionese mi fa venire un'idea sì per prima cosa svuoto il barattolo metto i dolci da parte per il tempo necessario e adesso mi sbizzarrisco prendo una spugna e della vernice bianca tampono la vernice all'interno del barattolo voglio che risulti ben stese e uniforme ho sempre voluto dipingere e voglio dipingere tutto il barattolo così va bene aspetto che si asciughi e ci rimetto i dolcetti Jared non riuscirà mai a trovarli rimetto il coperchio e voilà attacco l'etichetta della maionese perfetto adesso lo metto in frigo è l'ultimo posto dove guarderebbe avrei dovuto pensarci prima è una furbata ora posso anche rilassarmi il campo è sgombro sì è andata via quei dolci saranno miei ma non devo abbassare la guardia ah presi ma dove sono? sono spariti allora è così eh mamma crede di essere furba lo so che sono qui dentro un attimo fammi vedere è un grosso barattolo di maionese odio la maionese questo può tornare in frigo ma la mamma dove ha messo quei dolci? c'è solo una cosa da fare ok mela finiamola qui non posso credere di essermi ridotto così che bella dormita ma che Madison che stai facendo? guarda che casino non posso credere che tu l'abbia fatto cioè almeno lascia qualche dolcetto anche a me è fantastico adesso devo pulire tutto io odio fare le pulizie ma ho un piano questi vanno via niente più dolci beh a meno che non li paghi voglio ancora cioccolata dov'è finita? puoi mangiare questa frutta ed è gratis aspetta ma che succede? ehi quello lo usavo io non più dici sul serio acqua non esiste papà parliamone non potrei permettermi queste cose belle ah certo che sì che ne dici? la pulizia ma che noia però i soldi mi piacciono ok affare fatto ti servirà questa e voglio che risplenda in fondo fare il genitore non è difficile dovrei scrivere un libro bene ho lo stampo e il filler riempiamolo oh sbrilluccica che bello ancora un po' e sarà perfetto ora lasciamolo asciugare bene così è ora di tirarlo fuori adoro il mio unicorno scintillante lo metto sulla custodia del cellulare come può essere? devo continuare a leggere ok ora ha senso e se? oh ouch che botta la classe dei fighi? oddio ok calma potrebbe essere la tua occasione oh devo entrare oh mio dio ma è fantastico guarda quanti studenti fighissimi alcuni si fanno dei tatuaggi e quello ha una chitarra fantastico continua questo tatuaggio sarà una figata farà male spero che abbia sterilizzato gli aghi oh lei sembra una tipa gentile forse no forse no ha sconfitto quel ragazzo a braccio di ferro non ci credo è l'insegnante cosa? un dress code? bene cosa mi serve? vediamo oh piercing un bel po' di piercing che faccio? non sono abbastanza figa per questa classe ma ho tutti questi compiti già fatti un momento la graffetta sì potrei farci qualcosa bene però me ne serviranno altre quattro dovrebbero bastare ora mi serve una pizza metterò questi cerchietti che ho creato su labbra e naso ora devo cambiare vestiti e acconciature è ora di presentarmi di nuovo alla classe che schianto benvenuta in classe fantastica sei una di noi guarda quei piercing spettacolari quanto mi piace mi faccio avanti ehi fallo dopo la lezione per favore ok va bene ma ehi sediti accanto a me corri la pioggia ci sta inzuppando pare abbia smesso per fortuna che corsa oh no la mia scacchiera è rovinata ma com'è successo? aspetta non ti muovere torno subito cavoli ok sono quasi pronta devo solo proteggermi per bene guanti ok mettiamoci al lavoro ecco la mia collezione di stampi devo solo aggiungere del glitter perfetto ora lo verso negli stampini non troppo prepariamo altro filler me ne serve uno più scuro non dimentichiamo i brillantini ok ora lo verso nel secondo stampino perfetto aspettiamo che si induriscano credo siano pronti sono venuti benissimo devo proprio farne altri inizia a prendere forma ora mi serve una miscela più chiara la consistenza mi sembra buona nello stampino riempio tutto il quadrato e copro i pezzi più piccoli appena fatti dovrebbe bastare ok ogni angolo è coperto manca questo sì è fatta cavoli è bellissima ehi su con la vite ti ho fatto una nuova scacchiera l'hai fatta per me wow è fantastica ehi giochiamo oh devo assicurarmi che tutto sia perfetto ok ci sono adorerà questo regalo la prenderò di sorpresa chi sono? oh eh chi sarà mai? sicuramente una persona oh Jake sei tu buon compleanno e guarda ho un regalo per te oh che emozione voglio aprirlo adorerà questo cucchiaio? oh no ma com'è successo? riavvolgiamo il nastro wow bella questa collana sono sicuro che l'adorerà per questo compleanno ci vuole un regalo spettacolare un momento è già ora? oh cavolo non posso fare tardi devo andare oh ma cosa ho fatto? ah cosa? wow la mia forza brutta ha spezzato questo cucchiaio in due eh? è brillante forse posso usarlo in qualche modo ok con le mie pinze piegherò il manico fatto mi basta anche un piccolo ricciolo ora aggiungo una miscela con dei brillantini wow fantastica fatto ora si è asciugata wow è venuto benissimo meglio di quanto pensassi bene mi sono salvato per un pelo che sta facendo? oh si è addormentata beh deve ricevere il regalo svegliamola in modo divertente wow siete tutti qui ecco a te è il mio regalo spero ti piace oh grazie è il compleanno più bello di tutti wow che profumino questi biscotti eccola oh quant'è carina adoro quando muove i capelli al rallentatore anche i suoi occhiali sono stupendi scommetto che con quelli ci vede benissimo ciao vuoi assaggiare un biscotto? volentieri grazie è buonissimo ecco prova anche tu ah sì sarebbe incredibile se accadesse dov'è quest'aula? ok ci siamo ce la posso fare andrà tutto bene oh no che botta ma su cosa sono caduto? oh uno stampino quanto è bella questa botta mi ha dato un'idea userò questi stampini a forma di cuore per farne uno bene ora riempio il centro vuoto con questa siringa avrò un risultato preciso la luce UV lo farà asciugare più in fretta ora i brillantini questi a forma di cuori, fiori e stelle sono stupendi ora lo chiudo con un pezzo della stessa forma ti ho fatto questo portachiavi oh wow l'hai fatto per me è bellissimo che buone ehi guarda che trofeo ho vinto ci credi? non è incredibile? non sei colpita? certo gli orsetti ci entrano alla perfezione cosa? no non male ti mostro come l'ho vinto hanno premiato il sub più bravo sono io sono il miglior sub oh wow capito sei stato bravo in realtà aspettavo di darti questo wow che portachiavi stupendo l'hai fatto tu? non è stato difficile con una bustina di plastica e delle conchigliette dopo ho versato della resina celeste direttamente nella bustina con le conchiglie sembra acqua dell'oceano ok dovrebbe bastare poi ho semplicemente lasciato asciugare dopodiché ho rimosso la bustina e ovviamente ho aggiunto il portachiavi proprio in cima e voilà portachiavi pronto entra benissimo in questa parte della coppa oh wow ora la coppa è molto più bella sì che giornata fantastica grazie tesoruccio mi piace concentrarmi sui miei lavori oh ehi che fai laggiù? no non guardare non è abbastanza bello cosa? fa vedere sono sicura che non è male ok ecco a te wow ma è fantastico un lavoro incredibile oh guarda che macello hai lasciato però Jake lo so ma posso rimediare? non ti muovere ti mostro una cosa inizio temperando una matita guarda che spirale simpatica aggiungi un anello e diventa un fiore guarda è venuta meglio di quanto pensassi tada il tuo anello non ci credo che bello non ci credo che è fatto coi truccioli di matita cosa sta succedendo? vrum vrum ok questo sì che è strano forza faremo tardi penso di aver preso tutto oh tu devi essere la tata salve ops mi stavo dimenticando il cappello non può essere sto sognando andiamo ma come intendo tu? va bene tesoro respira avrai bisogno di questo tesoro perderemo il volo? ho così tante domande divertiti ha appena attraversato la porta che sciocco succede è tutto così strano perché mi ha dato un anello? wow ma guarda cos'è appena successo? sono un supereroe mi piace wow non lo sapevo fa più piano david accidenti che noia è troppo lento questo sembra divertente sarà fantastico penso che sia rotta su io cosa fare che sta facendo? sì adesso ho un amico andiamo più veloce ci deve essere qualcosa di divertente qui intorno guarda guarda dove è andato david? ciao betty scendi subito sono sull'albero ho detto scendi subito no ma non è giusto c'è mancato poco questo libro è così intenso oh no vado a fare una nuotata che cosa ha addosso? sarà fantastico fa ridere guarda betty sto per saltare ecco qui tuffo a cannone fermati fammi controllare l'acqua prima fa troppo freddo no niente bagno oggi oh ma dai non finirò mai questo libro sono così arrabbiato come vuoi non voglio sono sveglia stavo solo riposando le palpebre devo essermi appisolata no è un bravo ragazzo fare la tata è noioso voglio divertirmi potrei scoprire quali poteri ha questo anello è qui che devo andare ops ho un'idea oh sì ecco sono un corriere è fighissimo in che cos'altro posso trasformarmi vediamo un gatto? no preferisco i cani io una palla? potrebbe essere divertente ok concentrati wow questo è troppo divertente wow una palla figo voglio vedere quanto sono bravo a calciare david! quella palla ha appena detto il mio nome odio il calcio devo asciugarmi ho un messaggio da Jeff ho un appuntamento è così eccitante non vedo l'ora oh oh sono molte le cose che devo fare ci vorrà tutto il giorno a meno che potrei usare l'anello avrei dovuto pensarci prima lava 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 pronta? freddi! aia qua è davvero schifo ma almeno ci hai provato ehi tesoro sei pronta? spostati ciao ops stavo lavando i piatti scusami ma io ho visto non era niente su andiamo ho la sensazione di essermi dimenticata qualcosa oh oh è il compleanno di David oh no è sveglio che bel sonno oggi è il mio compleanno chissà che cosa mi regaleranno regali non va affatto bene ecco qui che cos'è questo? dovrebbe essere una torta buon compleanno ma ma hai rovinato il mio compleanno no David non farlo per favore fermati non posso lasciare che questo accada oh no sto scendendo le scale devo essere veloce ok fare una torta non può essere così difficile ho soltanto bisogno di alcuni ingredienti ok cominciamo a cuocere ho bisogno di mescolare tutto il forno il forno è troppo lento ecco così dovrebbe andare wow è per me ah vero sì è la tua torta posso averne un pezzo suppongo di sì beh allora buon compleanno è il migliore la 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 stirare è così rilassante ok sono pronto e devo fare piano Betty non ha idea di che cosa sta per succedere più 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 qualcosa non va nooo preso e anche questo ehi ma stai barando ho finito le munizioni e adesso tocca a me possiamo parlarne? non questa volta no ho tutto tranne quello vuoi farlo di nuovo? devo andare e devo prendere anche questo adesso posso stirare oh no fuoco è un disastro forse non se ne accorgeranno acquisti online è il mio hobby preferito bene Betty è impegnata david che strano ora dello spuntino Betty cerca sempre di nascondere le caramelle dove saranno questa volta? ah bingo prenderò queste guarda che cosa ho trovato io mmm cioccolato dove avrà messo dove avrà messo le patatine oh subdola devi fare di meglio Betty la mamma ha detto che dovrei usare il mio potere per fare del bene devo controllare il mio potere devo essere tutt'uno con le patatine quasi venite da me sì ecco sono così potente oh Betty dalle a me bel tentativo aspetta proprio come pensavo anche le caramelle avanti dalle a me sei così cattiva e anche il resto non mi diverto mai con te questo è tutto non impara mai Annie mi renderesti l'uomo più felice del mondo è un sì oh no niente anello per me suppongo aspetta so cosa fare grazie a questo trucco avrai un anello al dito in pochissimo tempo bello vero adesso basta incollarlo proprio qui problema risolto allora mi sposerai di nuovo spero ti entri wow ha detto sì gente questo posto sembra proprio come nelle foto da dove comincio odio guardare le notizie aspetta io ok che succede c'è un ladro che gira per la città fate attenzione ai vostri effetti personali questo tizio è in grado di arrivare ovunque le finestre chiuse sono la sua specialità un passante lo ha beccato e lo ha inseguito per strada non è riuscito a dileguarsi chiamate la polizia chiamate la polizia che bel viaggio ma prima di dispare le valigie vediamo che cosa è successo qui il ladro guarda che sfacciato mi piace qui una scatola di gioielli cosa? nient'altro che una forcina oh che spreco dov'è la roba buona qui? ancora niente non ha senso pensa pensa la spazzatura? ah non può essere ah i poliziotti devo uscire di qui oh no bene ha funzionato e tutto grazie ad una pallina guarda un po' impressionato? invece di lasciare gli oggetti in luoghi ovvi li ho messi in un posto davvero insolito nessuno guarderebbe qui dentro ecco perché il nascondiglio perfetto usa un pezzo di cartone come questo poi ritaglia un cerchio al centro passa della colla a caldo e poi attaccaci la carta delle caramelle e altra spazzatura basta coprire per bene tutto il cartone ancora e ancora una volta che è completamente coperto hai un bel nascondiglio oggi è il giorno più noioso di sempre e adesso? quelli sono carini chissà sì mamma volevo solo dirti che ti voglio bene oh che ragazzo dolce sei? sì lo farò sto arrivando oh accidenti sono rovinati mamma ho qualcosa per te perché tu tu significhi così tanto per me oh wow sono tutti tuoi solo per dimostrare che ci tengo a te a dopo ora sono bloccata con questa spazzatura oh beh aspetta forse posso farci qualcosa ah sì hai un vecchio contenitore di cartone? capovolgilo e mettici sopra un callice di vino sotto sopra poi metti i fiori attorno al bordo così usa tutti i colori che desideri quindi versa della resina liquida tutta intorno assicurati che sia riempito del tutto non preoccuparti può andare sopra i fiori aspetta poi che si indurisca ora rimuovi il calice e avrai questo splendido braccialetto è davvero unico e se ne possono creare tantissimi mamma ti piacciono i serpenti? non sono reali rilassati oh che bello quello spettacolo avevano dei bei tatuaggi come questo cosa buono anch'io devo averne un anch'io basta andrò subito a farmelo David è improvvisamente così attraente ciao posso toccarlo? oh oh fa male? no non proprio fa malissimo che mi stai facendo? non abbiamo cominciato vero? ups pronto? credo di sì oh cielo sta succedendo sul serio no no sei così coraggioso vorrei avere anch'io un bel tatuaggio ma almeno posso fingere guarda non è niente di che non come il mio oh e adesso? posso ancora impressionarlo vedi questo coso? sì posso farlo girare molto velocemente oh non funziona come posso attirare l'attenzione di David? lo so ehi questo vestito mi sta proprio bene vero? voglio dire insomma ma sono senza speranza aspetta penso di sapere cosa fare prendi una graffetta e ritaglia l'estremità in questo modo ti troverai con tanti pezzi come questi te ne serviranno solo quattro oh che bei piercing e ne hai così tanti io ho solo un unico tatuaggio vuoi uscire qualche volta? ti piacerebbe? non credo ha funzionato perfettamente film spaventoso eh? oh scusa ehi torno subito oh sì le piaccio proprio le cose stanno diventando bollenti lì dentro aspetta dove sono i miei orecchini? mi sono dimenticata di metterli ecco ora sto molto meglio no i miei orecchini sul serio lo farò sul serio oh santo cielo questo non è il mio orecchino aspetta è questo? cosa? ma dai ehi che succede? sono io? no cosa? raccontami i miei orecchini preferiti vedi? popcorn? no almeno ci ho provato aspetta forse posso farci qualcosa hai un chicco di popcorn colorato? appendilo a un gancio per orecchini dovrebbe andarci abbastanza facilmente vedi? ha funzionato ta-da che cosa? per te? oh sono così belli anche leggeri sei il ragazzo più dolce del mondo ti meriti un bacio andate via oh sì Annie Annie ehi ho bisogno che sistemi queste adesso no sì non vuoi ascoltarmi? che noia non riesco nemmeno ad arrivarci così in alto ok adesso dovrei riuscirci ehi non riesco a vedere oh accidenti queste cose sono ovunque oh non ci riesco proprio aspetta ho avuto un'idea geniale vedi questi anelli per tende? sono piuttosto versatili ma prima cambiamo il colore a me piace l'oro e non avere paura di dare un paio di mani una volta che asciutto infilaci dentro un pezzo spesso di nastro infila il tessuto su un paio di anelli e capovolgi il nastro mentre continui ad aggiungere altri anelli guarda che bel risultato adesso ho una bellissima collana vedi chi ha bisogno delle tende? ora va molto meglio cosa? come ti vengono in mente queste idee? ecco una parte è fatta su dall'altra voi fashioniste oh no si stanno avvicinando ehi laggiù tu non mi hai visto ok? shh come vuoi che bello ci sono quasi ehi piccolino ora cosa faccio? guarda che bello smartwatch wow non posso resistergli ehi smettila dammi quell'orologio che succede? preso oh no addio mi mimetizzerò in mezzo ai bambini non dovete avere paura dannazione l'abbiamo perso ancora sul serio ma è proprio qui ciao mi è andata bene e guarda che cosa riempi una siringa con della resina epossidica glitterata e iniettalo in uno stampo con diverse farfalle lascia che la resina epossidica si indurisca rimuovila dallo stampo prendi una catenina e aggancia delle ali ora hai dei bellissimi orecchini wow che belli chi ha detto che gli orecchini devono essere costosi ciao david vedi qualcosa che ti piace? c'è così tanto tra cui scegliere mi piace questa wow sono così belli ma non credo di poter comprare niente io vado allora ciao forse dovrei creare dei gioielli tutti miei o tutto quello che mi serve qui dentro diamo un'occhiata questo mi tornerà utile infilerò le perline nel filo è più complicato di quanto avessi immaginato accidenti quasi andiamo ce l'ho fatta adesso lo legherò oh proviamo di nuovo mi piace molto è un po' piccolo forse posso infilarlo ok non funzionerà devo allungarlo no non di nuovo che noia ora basta stupido bracciale voglio solo qualcosa di carino da indossare accidenti da dove vengono questi limoni guarda un po' ce ne sono così tanti mi è venuta un'idea se sei un fan della frutta e dei gioielli allora l'adorerai taglia a fette un limone occhio alle dita disponi le fette di limone su una teglia e mettile in forno cuoci i limoni finché non si saranno essiccati proprio come questi ma non sono da mangiare poi riempi un contenitore di vetro liquido usa uno spiedino di legno per intingere il limone nel vetro liquido assicurati che il limone sia completamente ricoperto poi aspetta che cade il liquido in eccesso metti un gancio per orecchini attraverso il foro praticato dallo spiedo e fai lo stesso con le altre fette oh li adoro madre natura sarebbe orgogliosa e ora che io guadagno un po' di soldi il mio negozio è aperto cosa ne pensi? li adoro ne prendo un paio ecco qui ciao Ava adoro i tuoi orecchini facciamo a cambio? certo ecco qui no li volevo così tanto sono così carini dovrei essere in uno spot pubblicitario per gli scienchi che bella nuotata e ho trovato questa conchiglia so io cosa fare sarà il regalo perfetto trasformiamo questa conchiglia in qualcosa di speciale dipingendola con della vernice blu poi ricopriamo la tutta lasciamo asciugare la vernice e avremo bisogno poi di quella dorata aggiungiamo una piccola striscia dorata attorno al bordo della conchiglia così adesso prendi un filo di metallo e usa delle pinze per piegarlo all'indietro vuoi creare un piccolo anello? pratica un foro nella conchiglia e infila il filo aggiungi una perlina decorativa utilizza delle pinze per ripiegare il filo non vogliamo che la perlina cada e adesso prendi un altro pezzo di filo e avvolgilo attorno alla conchiglia continua ad avvolgerlo finché non hai qualcosa di simile una volta fatto premi sul filo nella parte posteriore della conchiglia aggiungi una catenina e voilà puoi sempre portare con te l'oceano ehi posso sedermi qui? come stai? oh ciao ti ho notata e volevo darti questo davvero per me? ti starà benissimo spero ti piaccia è bellissima quindi speravo potessimo uscire più tardi forse possiamo prendere qualcosa da mangiare sarebbe carino ma quella è la mia collana? dove l'hai presa? devo andare i maschi ops stavo andando da questa parte oh è carino non farlo più ehi fammi una foto ah ok sì fammi lavorare sulle mie pose eh certo stai bene sono bellissimo no ci è mancato poco aspetta la mia collana mi ha dato un'idea mantieni il telefono al sicuro con questo pratico trucco comincia con un po' di filo poi avrai bisogno di una perlina decorativa come questa infilala nel filo poi aggiungi una perlina di colore diverso alterna i colori e riempi il filo una volta fatto fai un nodo e ammira il tuo nuovo braccialetto ma non tagliare il filo in eccesso dobbiamo fare un altro piccolo nodo in alto facendo un cappio nel filo metti il braccialetto da una parte poi avrai bisogno della tua custodia del telefono posiziona il filo attraverso il foro sul lato della custodia passa il braccialetto attraverso il passante assicurati che sia ben fissato ora inserisci il telefono nella custodia carino alla moda e pratico figo eh devo solo metterlo al polso e il mio telefono non cadrà più wow ora puoi farmi una foto oh sì così è una bella foto è così adorabile non posso credere che siano già passate due settimane abbiamo avuto così tanti bei momenti quante emozioni oh ciao David devo bere qualcosa fa così caldo fuori ho qualcosa per te ma che cos'è un regalo per l'anniversario volevo fare qualcosa di speciale oh grazie tieni questa per favore eh ok non è molto ma spero ti piaccia è fantastico proprio quello che ho sempre voluto quindi non ti stai dimenticando qualcosa che cosa non capisco e ti ho fatto un regalo quindi oh giusto non sapevo che ci saremmo fatti dei regali non ho niente per Betty è certo che ho qualcosa chiudi gli occhi adoro le sorprese cosa farò oddio ah lo so hai bisogno di un regalo al volo ci pensiamo noi rimuovi le linguette da diverse lattine e dipingi le tre in rosa potresti fare un po' di disordine dipingi di verde le altre linguette coprile completamente con la vernice non perderti alcun punto lasciale asciugare capovolgile e dipingi anche l'altro lato allinea le linguette e uniscile insieme usando degli anelli di metallo aggiungi dei ganci per orecchini e avrai dei gioielli unici ok puoi aprire gli occhi sono per me ti stanno davvero bene spero ti piacciano oh li adoro grazie sono stupendi fammi vedere quella lattina e questo wow che coincidenza sei così dolce devo solo finire di truccarmi e sono pronta ecco sto benissimo anche se mi serve qualcosa da mettere intorno al collo questo fular andrà benissimo non va bene sembra più il mantello di un supereroe forse così no non funziona non posso indossarlo ho un'idea devo mettere via la spesa è proprio quello che mi serve Annie Annie che fai mi serve per favore questa andrà bene o almeno così credevo deve esserci qualcosa che posso indossare forse potrei usare queste come sto? ridicola che stavo pensando adesso come farò non è giusto ne ho così tanta fame oh ma come sono buoni cosa c'è che non va tesoro? voglio avere una bella collana aspetta penso di avere un'idea vorrei averci pensato io funzionerà di sicuro grazie mamma rimuovi il fondo di un contenitore di plastica per alimenti scrivi il tuo nome su un pezzo di carta e metti il coperchio sopra poi traccia il tuo nome sulla plastica non abbiamo più bisogno del foglio usa le forbici per tagliare il tuo nome fai attenzione e non fare errori adagialo su una teglia e mettilo in forno il calore farà restringere la plastica attendi che si raffreddi e toglila dal forno e ora di diventare creativi dipingi sulla plastica aspetta che la vernice ti asciughi quindi attaccaci una catenina la mia collana personalizzata wow è incredibile sono finalmente pronta per uscire mi mangerò qualche biscotto oh? ma com'è possibile? rendiamo più interessante questo fermacapelli userò una penna 3D per creare un motivo a spirale poi mi muovo verso l'alto sta venendo benissimo così dovrebbe bastare ora me la sistemo sui capelli che ne pensi Wendy? adoro look favoloso pronta? aspetta posso premerlo io? ti prego ti prego ti prego posso? va bene fai pure ci siamo cosa dovrebbe succedere adesso? boh strano provo ancora eh dai sarà mica rotto che facciamo? andiamo a casa? oh cuffie grazie mi piace questa canzone forza stupido tasto non serve a niente ehi dove le hai prese quelle? jasmine ehi oh che maniere vediamo se così funziona jasmine la 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 sul serio? ok questo funzionerà di certo farà rumori oh strano che cosa ha che non va? wow la 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 cosa è successo? non lo userò più ho un'altra idea du 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 da 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 giuro che le ho presi solo in prestito ehi mi serve il tuo aiuto va lascia stare oh no è che vedi io ridammeli spero per te che ci siano tutti senza rancore? oh sì woohoo jasmine dai cosa posso fare? ho trovato babababababababab avrei dovuto pensarci prima disegno anzitutto un cerchio ma lascio una piccola sagoma tipo una serratura ora la riempio devo restare dentro le linee quasi fatto ecco ci siamo direi adesso disegno delle linee verticali non devo lasciare spazi però ho un lavoretto rilassante mi sento già meno stressata ok prossima fase disegno delle linee lungo la sagoma come a creare una cornice faccio lo stesso dall'altra parte e poi riempio questo per ora posso metterlo da parte prossima fase devo disegnare tante linee vicine l'una all'altra a creare una lunga striscia di plastica solo un altro po' perfetto la piego finché è ancora morbida e poi incollo i cerchi le mie cuffiette ci entrano perfettamente adesso anch'io ho delle cuffie oh che bella canzone Jasmine guarda wow davvero niente male Wendy lo so sono unica al mondo balliamo? aspetta no facciamo una guerra di pollici devo avvisarti sono imbattibile oh te la capi una vera battaglia arrenditi Wendy è distratta ehi hai barato wow hai visto che succede? ma dove ci troviamo? che succede? non guardare me oh che caldo già aspetta che cos'è quello? uno scorpione? oh che paura Jasmine che stai facendo? che fine ha fatto? non ci capisco più niente ti senti bene? voglio solo l'acqua fa nulla che caldo forse posso raccogliere il sudore eh dici? beh è pur sempre acqua no? ma che maniere che ho scusa ne vuoi? grazie ho così sete quella cos'è? questa non me l'aspettavo non è una cosa che vedi sempre pensavo fosse solo nei film wow ora va meglio guarda che bel cocomero proprio quello che mi serve che buon profumo oh e dai che delusione forse questo mi aiuterà cosa facciamo adesso? aspetta ho un'idea disegno una forma simile alla luna poi la riempio con linee verticali lascio un po' di spazio tra ogni linea aggiungo qui sotto un verde chiaro fino in fondo giù ok basta così adesso serve il rosso seguo lo stesso schema ma più vado giù più lo faccio stretto sembrerà una fetta di cocomero visto? adesso un po' di dettagli questa è la parte più facile bastano dei cerchietti neri qui sulla parte colorata e rosso ok devo fare un foro sulla punta del triangolo farò altre fette di cocomero e le metterò una sull'altra poi metto un filo di plastica nei fori e leggo tutto insieme sarà un ventaglio perfetto con questo caldo wow rinfreschiamoci un po' oh che bella aria fresca oddio Jasmine mi dispiace ah te l'ho fatta l'ho trovato dentro una roccia ma che scherzi mi fai non mettermi paura almeno io ho un ventaglio pronta? forza oh quasi sì ho vinto io premo io il tasto oh che bell'abito e che splendido bouquet hanno un profumo buonissimo oh quanto mi piace ciao Wendy oddio guarda quell'anello Jasmine non ti avevo vista ma che fai oh che romantico dico scherziamo quello è mio mio non più adesso è mio lascialo già mai sapete me ne vado fermati l'hai rotto dov'è il diamante? ma perché l'hai fatto? non piangere doveva essere il più bel giorno della mia vita dai smetti di piangere lo so lo so adesso calmati non mi va mai bene niente non è giusto farò un anello tutto mio aspetta aspetta forse posso rimediare metto un po' di colla sull'anello lasciamola asciugare un po' poi immergo tutto nel glitter così sarà tutto scintillante wow Wendy tieni è per te un anello? per me? davvero? certo oh mi hai resa così felice che bello puoi tenerlo wow grazie che te ne pare? adoro sei così generosa siamo bellissime ottimo lavoro chissà come fa la gente a non bere sempre limonate appena spremute che noia magari esco un po' ma devo mettermi le scarpe bene allora yuhu si Abba portami le scarpe e in fretta ho scelto le tue scarpe più belle no oh ok ah rosso fuoco no sandali forse le sneakers no sulle scarpe sono incontentabile tutto il resto è già perfetto così ah va questo è l'ultimo paio che ha ma su non sta mica piovendo la prego non mi licenzi va via e basta su devo trovare una soluzione forse posso crearle io ce lo sto impazzendo forse le piaceranno queste è la mia ultima chance a meno che quel vaso forse ho trovato usiamo una penna 3d per riempire gli spazi continuiamo fino a quando completiamo la forma che vogliamo la prima suola è pronta adesso prendiamo una ciotolina di carta e la tagliamo a metà con la penna la incolliamo alla suola queste strisce la terranno a posto continuiamo e una volta fatto tutto rimuoviamo la parte di carta così usiamo un nastrino per unire tutte le strisce un bel fiocchetto e voilà carinissime ava le adorerà oh ava ho trovato un paio perfetto per lei vedi seriamente serissimo sul serio oddio fa sì che le piacciono ne va del mio lavoro sicuro mi gioco la vita in questo momento prenditi un calmante le indosserò in effetti sono proprio carine sì speriamo siano della mia misura belle e poi sono davvero uniche le sfoggio subito su instagram ma che disordine mica penserà che pulisca io si gela qui mi sono addormentata sul divano oh buongiorno nodi ecco il pettine e un sacco di altra robaccia che schifo tutto coperto di ragnatele meglio di niente immagino non è più come una volta questo coso e ho dei nodi impossibili au questo è il peggiore non si può così dai togliti questo era attaccato alla mia testa ridotto così e fa tutti questi danni davvero pazienza dovrò tirar fuori gli artigli oppure no c'è qualcosa di utile qui in giro forse quella spatola ma certo usiamo la penna 3d per fare dei denti ci vorrà un po' ma il risultato varrà tanta fatica puoi fare i denti lunghi o corti come ti pare continuiamo fino a coprire tutta la spazzola diamo una spuntatina adesso ecco mi sono costruita una spazzola adesso i miei nodi non hanno speranze avrò i capelli lisci e perfetti e non ho speso un soldo visto che bei capelli che ho adesso la creatività è stupenda anche se è faticosa spero di essere pronta per il compito che sta succedendo laggiù? togliete quelle teste stasera si fa festa una festa la migliore ci sto la migliore festa di sempre ed io ho il vestito giusto si va alla festa si che unghie però non posso presentarmi così la manicure costa troppo quanto a lungo potrò nasconderle la penna 3D vuoi belle unghie? prima stendiamo della carta da forno definiamo prima le cuticole e tracciamo il contorno dell'unghia poi spostiamo la carta di lato e finiamo di disegnare l'unghia riempiamo tutto con la penna il rosso funziona sempre finora niente male cerchiamo di curvarla un po' per dare la forma giusta poi rimuoviamo la carta e dovrebbe calzarti a pennello ta-dam splendente come farai senza questa? a chi serve una costosa manicure quando puoi fare tutto da te? ehi hai delle unghie favolose grazie questa sì che è una botta di autostima sono pronta ciao Ava oggi sei davvero splendida ma quello è oh no c'è David no i capelli dovevo fare colpo su di lui stupidi capelli lunghi così va meglio non ha neanche fatto caso a me Ava prende tutte le attenzioni sul serio proviamoci di nuovo va tutto bene un buco ho perso tutto accidenti questo giorno va di bene in meglio ciao David guarda gli orecchini di Annie dici a me scusami dove vai davvero ti piacciono sono unici nel loro genere mandami un direct su instagram Annie pensa di passarla liscia i suoi orecchini sono carini in effetti mi piacciono i tuoi orecchini ti aiuto a farli se vuoi tracciamo una foglia con la penna 3d poi la coloriamo sembra proprio vera vero quando è asciutta stacchiamola ad una catenina poi aggiungiamo un'altra foglia possiamo farla in tinta carine Annie grazie sembrano anche costosi la casa deve essere questa toc toc ah ciao siete qui per il lavoro da babysitter entrate pure queste scegli la mia principessina piacere di conoscerti oh che esaltata su diamoci un taglio wow che caratterino propendo per un no papà oh devo andare occupatevi della mia bambina sarà un vero piacere meglio che tu resti io sono guai ti voglio bene tesoro io vado al mare so che diventerete grandi amiche ah prego certo puoi anche scordartelo ma che no non è divertente un bel film è quello che ci vuole che noia è lo stomaco bronto la voglia del cibo ah che hai detto tranquilla faccio io torno subito dove va è così irritante ti ho portato degli snack buonissimi vuoi una carota croccante scherzi vero ok ehm pomodoro mela potrei accettarla ha un bell'aspetto adoro le mele il mio dente ok è stranissimo ho un aspetto da durà e niente paura chiamo il dentista ehi rilassati mi piace questo look qual è il suo problema? devo fare proprio tutto io dammela che stai facendo? stai per scoprirlo non muoverti non ho una buona mira ma mi sono esercitata ferma è il tuo tiro migliore? la prossima volta ci riuscirai questo non conta stavolta ci riuscirò comunque detestavo quella candela non sei un granché a freccette non sono brava sotto pressione rendiamolo più interessante ecco qui wow un attimo come hai fatto? che sta succedendo? devo fare qualcosa tu vieni con me non posso rischiare che accada di nuovo questa affettatrice risolverà tutto renderà la mela a prova di Shelly metto la mela in questo punto collo con l'affettatrice sopra la mela premo verso il basso e voilà la mela è tagliata in spicchi guarda un po' tieni wow figo aspetta che stai guardando? non fissare i miei biscotti ehi io ho una mela e lei i biscotti non mi sembra giusto ma più mele per me immagino è il gran giorno il compleanno di Shelly ci sarà un bel po' da organizzare non è emozionante? che esagerata il palloncino sta bene qui ci vogliono decorazioni super colorate e anche una buona torta buon compleanno l'avete fatto per me? non posso crederci le decorazioni sono interessanti abbiamo fatto tutto noi spero ti piaccia in fondo è il tuo giorno speciale a questo punto esprimo un desiderio ok spero che si avveri festeggiamoci divertiremo un sacco quasi dimenticavo ho un pensierino per te scelto personalmente oh non avresti dovuto è davvero per me? mi chiedo cosa sia oh una bambola non avresti dovuto sul serio non avresti dovuto anch'io ho un regalino ti piacerà molto meglio di una stupida bambola non è vivo vero? mi sale l'ansia cosa? è? è? un teschio? ho cambiato idea tienilo tu ma l'ho preso per te veniva dal cuore sono a posto fidati ok lo terrò per me non sai che ti perdi avrei voluto una ghigliottina quando avevo la tua età guarda che maestria artigianale cosa? una ghigliottina? che dovrebbe fare? speravo me lo chiedessi ora te lo mostro mi serve una vittima cioè volontaria mettiti comoda potrebbe pungere un po' pronta per la parte migliore? la mia bambola! ta-da! è un miglioramento? che cosa ho appena visto? è fighissimo! mi prendi in giro? deve fare male sto bene sto bene no non è vero e l'audace principessa salvò il principe spaventato e vissero per sempre felici e contenti mi si chiudono gli occhi che noia questa storia ha un aspetto così adorabile ho il cuore pieno d'amore sogni d'oro che... che succede? c'è qualcuno? Shelley vieni con noi Shelley cosa? no indietro conosco il karate Shelley? oh no non se ci sono io stai per soccombere rivelati ma che? non ci credo sorpresa fuori di qui cercavo di dare una mano che rabbia ora va tutto bene aspetta non lasciarmi non voglio stare da sola ah fammi pensare forse ho qualcosa nello zaino vediamo com'è finita qui? cos'altro ho? ah Chris e fingi di non vedere ehi schiuma da barba potrebbero esserci altri mostri so cosa fare dovrò apportare una rapida modifica spero che funzioni guarda che cosa ho qui è uno spray antimostro i mostri lo odiano davvero? esiste sul serio? funziona? fermati ah prendi questo posa quella lattina ok credo di essermelo meritato pensavo tu fossi non importa colpa mia ha un buon profumo anzi no vado a vomitare non fare pasticci ok mi fa ridere belle sta? proprio così preso sei così morbido e soffice aspetta ehi che cos'è quello? mamma è occupata è la mia occasione va tutto bene? ancora un po' ci sono quasi che stai facendo? aspetto da tanto questo momento ci siamo finalmente no non ti azzardare non così fretta Ava ma di nuovo un giorno ci riuscirò mamma devo impedirle di toccarla userò del nastro per coprire la presa questo dovrebbe bastare e fermare Ava addio amica mia ci rivedremo un giorno è così bello vederti accomodati oh è così morbido abbiamo ridipinto che ne pensi? le decorazioni ti piacciono? che pesce grosso quella cos'è? arte moderna? quello è per proteggere Ava non è importante so come aiutarti mi sono già trovata in questa situazione non ci vorrà molto inizio disegnando un cerchio con la penna 3D poi lo riempio ho tracciato un rettangolo al centro che lascio vuoto ho quasi finito questa parte ora riempio il rettangolo con del bianco è così facile e anche molto divertente ok andiamo avanti disegno un cerchio più piccolo sul disco applico uno strato spesso in questo modo fatto posso inserirlo nella presa ne ho fatti degli altri tutti di forme diverse così Ava non si farà male cosa? cosa sono quelli? ehi non è per niente bello ma siete noiose sì sono sicura che sia così me lo segno ehi ho un'idea migliore ups no fermala presto ci penso io sono qui amica mia facciamo piovere fazzoletti non possiamo permettere che si rovesci aspetta ok solo un falso allarme già sono un po' delusa cioè non che mi lamenti ma ero pronta al peggio sta ancora girando potrebbe essere un record aspetta aspetta niente posso dirlo? sta diventando noioso forza vedi di farla finita ehi sta succedendo qualcosa Ava svegliati ah finalmente guarda sta cadendo il mio portatile no era solo un sogno Ava no ok ce l'ho che c'è? c'è mancato poco speriamo non ricapiti metto un foglio di stagnola sopra la tazza fissandola al bordo mi assicuro che sia ben stretta ora mi serve la pistola per colla faccio un cerchio faccio un cerchio qui al centro e poi mi sposto verso il bordo copro tutta la stagnola e lascio che colli giù è ipnotica vero? aspetto che si freddi e tolgo la stagnola ecco un pratico coperchio che te ne pare? ehi attenta wow è incredibile ora finiamo i compiti ciao 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 ciao